Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi Fortbyte numero 14 anche oggi in tempo reale praticamente la posizione del nuovo Fortbyte che potrebbe essere difficile da trovare visto che la traduzione in italiano è sbagliata si trova in una postazione arcade non ha assolutamente senso per noi perché dovete andare in realtà qua dove c'è il campeggio ragazzi e trovate il Fortbyte numero 14. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live domani mattina ciao